Oh, cattivo, eh! Ma che cattivo! Cattivo! Raga, che figata! Madonna, si ciocca al 125! Evitiamo di farci arrestare! Ragazzuoli, oggi sono venuto al Lago di Garda per farmi un girettino con Siv. Per chi non lo sapesse, quel maledetto tiktoker con l'A35 gialla che si mette a tissare tutta YouTube Italia. I Rattaglio e lui siamo amici, quindi invece che sfidarci, siamo beccati per fare un giretto. Cioè, ma raga, guardate che posti che ci sono in ste zone! Mi gasa troppo, ve lo giuro! Anche a te si sta paralizzando la faccia! Sì! Oh, strafreddo! Mamma mia! Ora inizia il bello! Guarda che mi sa che tu ti sei dimenticato un piccolo dettaglio! Cosa? Hai 29 anni! Eh! E come cazzo vai in giro? Hai cosa dell'olio? Eh? Hai lo sportino dell'olio? L'ho persa! No, eh... Guarda! La sto per perdere! Buona! Mi spieghi come fai a fidarti così tanto delle tassellate per strada? Feeling! Devi essere una cosa sola con la moto! Cioè, anche quando tipo tu arrivi in fondo, che non c'è più spazio, freni, ti metti al contrario e tipo freni come i roller! Però questo freddo è più difficile! Minchia, zio, mi sta congelando le mani! Comunque, questo K sta dietro a un 300, eh! Dietro, esatto! No! Adesso, vabbè, gli sto col fiato sul collo! Vai! Vai! La fa ingolfare con la carretta! Attenzione, attenzione, i mangiussani! Questa raga è un video molto easy! Dato che ci andavo di fare un giretto, ho un bel po' di progetti in ballo, ma sono tutti fermi per cose che non dipendono da me! La macchina purtroppo... Oh, sì! La macchina purtroppo è in officina, Quindi, mi sa che mi dedicherò a fare un po' di giri in moto, prossimamente! Ah, che freddo! Guardate dove l'ho portato io a mangiare! Adesso fra mezz'ora arriverà! Madonna! Madonna! Qua ti porto tutte le fighe, di solito! Ho perso pure il pezzo di cavalletto, raga! Tu sei fuori completamente! Mangiamo qualcosina che è meglio! Mi chiamano la stufa, ovvio! Che posto! Ora ti porto in un'altra strada, molto quotata della zona, dai Green Grands, Vanno sul ponte a fare le penne, Io l'ho fatto tipo due o tre volte, però è figa! Dall'inizio giornata ho perso questo cavalletto e il tappo del capriaccensione, Bene, così si raffredda meglio, no? Hai visto la doppia calza? Beh, c'ha stile! Ho sulle calze dell'abito, sotto, e poi le calze di Primark, sopra! Ma tu che lavoro fai, quindi? Eh, tiktoker! Non fa smettila! Ma quanto cazzo è bello andare in moto, andare in macchina è bello! Fica, ma raga, essere un tutt'uno con la moto è proprio una figata! È fuori di testa con quella moto lì, non capisco come fa! Attenzione, vado sano, in piega! Impenata! Impenata è incredibile! Che controllo! Sinistra! Piega, piega, piega! Mamma mia! Attenzione, attenzione! Oh! È furioso! La furia, Ivan Giussani! Attenzione, piega! Piega! Dai, Ivan Giussani, puoi fare di più, puoi fare di più! Puoi fare di più! Tagliare queste curve! Mamma che panorama, raga! Vai, vai, vai! Attenzione, attenzione! Abbiamo l'Ivan Giussani inferrucito, come non l'avete mai visto! Prossima, preste! La riprendo! È lei il protagonista qua! È lei il protagonista! Vada pure! Te ti giuro, mi stai facendo stormare! Proprio un bravo ragazzo, mi valeva! Al 125 divan, figa suona la diva, raga! Mamma mia! Ti odio! Non voglio più uscire in moto con te! Qua abbiamo un'acrobazia di equilibrio! Non sapevo! È il vantaggio, deve sapere andare forte! Con le gomme deve andurre sullo asfalto! Puoi anche tagliare! Qua c'è le fei! C'è le fei! C'è le fei! Eh? Sai cos'è? No! È stata classificata la spa migliore al mondo! Questa! C'è un ingresso di una spa così è il più bello al mondo? Sì, non è molto invitante in effetti! Sto congelando! Devo fare così con le dita perché se no mi si atrofizzano! Come gira sto cappino! Minchia, non ci faccio più muovere le mani! Eh, infatti, dove cazzo stiamo andando? Ci stiamo allontanando sempre di più! Quindi preferisci tornare indietro? Eh, tu che dici? È una bellissima strada, eh! Quanto manca ad arrivarci? Poco, siamo arrivati! Andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! No, 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 no! Che mi mitragli tutto! Peggio di Pachi! Mi fai paura dietro! Vai! No! Vecchio, so quello che faccio! Eh, non lo so io cosa faccio! Se vi anche mi sta lanciando come proiettili, sassolini! Attenzione al piedino! Ivan è incerto sulle condizioni dell'asfalto! Preferisce tenere un passo da pensionato piuttosto che irrischiare! Non sono per un cazzo confident qua! Facciamo cambio moto! Per un pezzo! Io vado pianissimo però, eh! Attenzione, attenzione! Cambio moto! Come sono come youtuber? Vuoto? Beh, 4,5! Ma come 4,5? Come devo fare per far meglio? Vecchio, c'è la paramento elettrico, è una moto da pensionato questa qua! Povera moto! Ok, let's go! Oh! F*** se frena! Che figata! Mamma, ragazzi! Sono al 125! Vediamo se so impennare col 125! Dov'è Ivan? F***! Che posto! No, che bello! Mamma, che bello, raga! Che bello! Quanto cazzo vola sta roba! Che figata! Siamo arrivati! Oh! Zio, questo era un rischio crash! Che figata! Che figata! Che figata!